Ci troviamo qui davanti per alcune problematiche che ci hanno sottoposto per quanto riguarda la questione cimitero del comune di Partenico. Non sentiamo da tempo la commissione straordinaria, giustamente c'è il mese di agosto, ci sono state le ferie, anche se le abbiamo viste al lavoro. Non abbiamo notizie di quello che c'è in giro, di cosa si sta facendo, di cosa si muove, perché vorrei ricordarvi che sono state ordinate, o meglio, è stata fatta progettazione per due nuove colombaie, per fare i nuovi posti qui al cimitero, per due colombaie di 180 posti, per 360 posti, che pensate che in alluminio, fatto una struttura che si monte in temponente, che poi cassonate e poi fuori col marmo non si vedebbe niente, insomma, una struttura nuova che sarebbero costate tutte e due, sulle 350.000, 360.000 euro. Con la limitazione dei costi pensate che siamo arrivati a circa 600.000, quindi al posto di due colombaie molto probabilmente se ne farà una, ma ancora nemmeno questa si discute, quindi nemmeno questi 180 nuovi posti per il cimitero di Partenico. Abbiamo avuto modo di vedere che con, ma prima di arrivare all'argomento del giorno, abbiamo avuto modo di vedere da sempre che quello che non funziona al comune di Partenico è soprattutto la gestione del personale, come viene gestito, personale, lo ripetiamo ancora una volta, che molto spesso, troppo spesso, un ne vuole mettere, un ne vuole travagliare, mi assumo la responsabilità di quello che dico. Abbiamo pochi che lavorano e tanti che non fanno niente. E che ovviamente tutto questo sotto una gestione del responsabile del personale, che più che stare attento a suddividere le persone, a vedere come stanno, come si mettono le cose, io ho letto recentemente, e mi arricciolarono le carne, che a Banestrate oggi il cimitero rimane chiuso per mancanza di personale, perché tra i piedi, cosa ne va in piedi, cosa è la moschia, cosa va via, giustamente resta un cimitero chiuso e un servizio alle persone che viene a mancare per mancanza di personale. Il sindaco, io personalmente, mi avessi avuto da sindaco e l'avessi avuto io un catenazzo, perché crea per un cimitero e crea per un catenazzo. E poi allora io l'avessi avuto a chiudere, ma non si trova personale. Ormai siamo fatti tutto comodo, per la gestione invece del personale, quello che voglio dire io è che ovviamente qui abbiamo da oggi, c'è da un bel po' di tempo, da quando c'è la commissione straordinaria, il problema è che il cimitero si apre solo di mattina e nel pomeriggio rimane chiuso. Ora, cara commissione straordinaria, Partenico è un paese di 32 mila abitanti e qui dentro ci sono migliaia, centinaia di migliaia di cari o dei propri cari defunti, dove vengono persone a trovare ovviamente il padre, il madre, il nonno, i zii, i parenti, i figli e tutto quello che vuole dire. Tenere un cimitero chiuso nel pomeriggio, quando ci sono persone che di mattina lavorano, andavano a lavorare e non hanno ovviamente la possibilità di poter venire, sarà pure per mancanza di personale che poi abbiamo un'autoresponsabile del cimitero, che è quanto dire, ma quella è un'altra storia. E allora ci sono stati cittadini di Partenico che hanno scritto al comune di Partenico all'attenzione dei commissari prefettizi, chiedendoci anche un nostro intervento. La signoria vostra dovrebbe dare possibilità alle famiglie di poter visitare i propri intimi e cari defunti anche ogni giorno senza imposizione coatte da parte del comune o di chi lo rappresenta in questo momento in considerazione del fatto che molti di questi sono dei lavoratori, dei lavoratrici e non non pensionati che in ore antimeridiane lavorano. L'apertura pomeridiana sarebbe anche a tutela delle misure di contenimento anti contagio Covid e non è consigliabile che la gente affluisca prevalentemente la domenica mattina. Chi perde un caro spesso sente la necessità personale, insindacabile e giornaliera almeno per i primi anni di andare dal proprio defunto. Quindi la cittadinanza invita i commissari del comune a riflettere e intervenire sulla riapertura pomeridiana del cimitero di Partinico. Bisogna avere rispetto e considerazione che penso non mancherà ai commissari per famiglie che sentono la necessità di visitare anche giornalmente i propri cari intimi, mogli, mariti, figli e genitori salita alla casa del padre. Se i familiari stretti svolgono lavoro antimeridiano, possono andare praticamente solo la domenica? È impensabile. Bisogna avere rispetto per chi ha perso un caro e sente la necessità di andare tutti i giorni a visitare la tomba. È deleterio lo Stato e il degrado in cui versa la borgata virtuosa di Partinico. Dovremmo essere più europei. Vedete come non si può non condividere un appello del genere perché sinceramente chi perde un non proprio caro e abbiamo avuto modo di vedere con questa pandemia che tante persone sono morte qui a Partinico, ho appena avuto modo proprio di vedere di tanti familiari che hanno perso il loro caro per Covid che sono qui a fargli visita. e quindi il fatto che questo cimitero dalla gestione commissariale il pomeriggio sia rimasto chiuso è un altro regalo che ci ha fatto l'ex sindaco De Luca regalandoci appunto Arena e la commissione straordinaria e ovviamente è far sì che questo cimitero il pomeriggio rimanga chiuso tra le altre cose non so non sappiamo le condizioni igienico sanitarie all'interno del cimitero perché aveva avuto tantissime denunce che non si fa il diservamento specialmente nelle tombe queste che sono per terra non vogliamo forzare la mano ad entrare per andare a vedere eccetera eccetera dico e da un politico una volta ci fatti io da la cimiterità di un paese di un popolo si vede dal rispetto che porta ai propri cari defunti e il rispetto è anche poter dare la possibilità di poterli visitare e di poterci venire anche nel pomeriggio specialmente chi di mattina lavora quindi penso che trovare un paio di persone che aprono e chiudono alla fine un catenazzo non credo che sia impossibile in un parco umano abbastanza ampio che ha il comune di Partenico tranne che poi la responsabilità di chi guida questo personale è solo e semplicemente per fare carriera e non certo per l'interesse e la collettività e il bene della della collettività perché vedete con queste progressioni tra le altre cose promozione eccetera eccetera qualcuno si sta pigliando puri merito per te pici io e te pici ca e te pici da perché poi alla fine il prossimo sindaco chiunque sarà rimarrà ingabbiato nelle mani di chi detiene il personale